Martedì 16 tornerà a riunirsi il Consiglio Comunale di Andria in una situazione politica incerta e senza che la questione del rimpasto della Giunta sia stata risolta. All'ordine del giorno importanti argomenti come il discusso poliambulatorio della ASL, la caserma dei carabinieri e la localizzazione del luogo su cui dovrebbe essere realizzato il nuovo ospedale, ma sulla tenuta della maggioranza incombono nubi nerissime. Finché guidero io la coalizione non sarà mai mano a veti e personalismi, ha tuonato ieri il sindaco Giorgino in versione cuore impavido a proposito della devastante querelle sull'indicazione dell'avvocato Pierpaolo Matera, quale assessore di direzione Italia, attualmente senza rappresentanza in giunta, visto che Pietro Sgaramella da alcuni mesi si è dichiarato indipendente. I fatti sono ben noti, nove consiglieri di maggioranza, tra i quali tutti e cinque quelli di Forza Italia, hanno contestato tale indicazione, sostenuta almeno ufficialmente da un documento sottoscritto da tutti e tre i consiglieri comunali di direzione Italia. In realtà si trattava di un sostegno di facciata e l'intenzione di Giorgino di procedere ad un'altra sostituzione in giunta, non concordata con la maggioranza con la nomina dell'avvocato Francesca Magliano di Alleanza per Andria, al posto della dottoressa Elisa Manta, che da tempo chiedeva di lasciare l'incarico per motivi lavorativi e personali. E' stata la scusa per far sì che sia Francesco Lullo che Giovanna Bruno di fatto ritirassero la loro firma dal documento, facendo venir meno il sostegno a Matera. Il risultato è che tra la levata di scudi dei nuovi consiglieri di maggioranza e i tentennamenti del gruppo consigliare di suo riferimento, Matera ha preso cappello e ha ritirato la disponibilità comunicandolo con una lunga e polemica nota. E qui entriamo nella commedia politica. Il Braveheart de Noiantri Giorgino ha potuto far finta di respingere viti e dissociazioni, revocando Sgaramella e nominando Matera, fingendo di non sapere che avrebbe rinunciato a dimostrare la recita, il fatto che diversamente avrebbe nominato almeno la Magliano, cosa che si è ben guardato dal fare. Il risultato è un nulla di fatto, che lascia immutata la situazione in piedi tutti i problemi della maggioranza. Ora si aspetta che Direzione Italia dia una nuova indicazione per il suo assessore, ma tutto è in alto mare a causa delle loro divisioni e delle personali ambizioni. Sia Lullo che Labruno aspirano alla carica e se non è stato possibile metterli d'accordo in tutto questo tempo, non c'è da essere ottimisti sulla possibilità che ciò avvenga in questi giorni, anche se il nome di Lullo appare più gettonato. La sua nomina ad assessore consentirebbe l'ingresso in Consiglio Comunale dell'Avvocato Antonio Nespoli, in passato colonnello del Sindaco, oggi degradato a suo avverso caporal maggiore. Questa è la situazione. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni e se l'armata Brancaleone di Giorgino riuscirà a superare la crisi. Cartina di torna solo il Consiglio Comunale del 16. La mancanza del numero legale in tale circostanza sarebbe devastante per la credibilità dell'amministrazione a poter proseguire in un mandato su cui gravano problemi serissimi, a cominciare da quello finanziario. Tempo da perdere in dispute e contrasti privi di costrutto. Tra partiti non ne abbiamo né io né la città, ha detto irrigidendo la volitiva mascella sempre i ghiri Giorgino. Bene lo dimostrasse, completando la giunta magari entro il Consiglio di martedì. Diversamente corre il serio rischio che si tratti solo di chiacchiere senza neanche distintivo.